è l'ombra del gigante la nuova mappa dai la vediamo apriamo il battle pack versione festività va bene che cazzo è la skin per l'aereo ma che figata col teschio dei pirati si si la voglio un plus oh my god lo devo tenere per semi se non si incazza che si ok mi unisco allora qui ragazzi è molto molto concentrata io direi partiamo con l'assalto per fare un po schifo siamo sempre col capo dei capi naturalmente e garfield che almeno ci cura con l'assalto proviamo a pompare un po in giro e questa qua è la zona di mappa appunto l'ombra del gigante che in conquista è molto vasta campi apertissimi a zone veramente un po la gioia dei cecchi mentre invece qua è la zona un po più urbana un po più concentrata ci sono quei vagoni del merda bella andiamo 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 la stalla di luca va bene un saluto a luca intanto e vedete che qua in mezzo ai vagoni ci possono venire fuori delle belle sporcaccionate eh vabbè cazzo boh never ride ciao cominciamo a fare un po schifo eh ragazzi quando ci vuole ci vuole non ho niente per cui ci sono puoi curare occhio la imbecille invece di fare il coglione abbiamo conquistato l'obiettivo alfa ma vaffanculo porca troia guarda stavo facendo un bel numero quello l'ho tornato male questo l'aveva seccato fammi tornare fammi tornare nel mondo dei vivi amico grande maschera bene abbiamo perso l'obiettivo charlie via 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 no non ci credo abbiamo conquistato l'obiettivo bravo non ci credo che fai così cagare vieni fuori testa di merda mamma mia o stava prendendo la bandiera e quindi ci sta ci può anche stare anche perché magari sapeva che c'era uno in giro però sapete bene che giocare con i giochi qua se non si infiarisce sul nemico non c'è gusto proprio ecco il pompa dai che voglio sbloccare il pompa nuovo quello da caccia che è shot da distanze siderali da distanze siderali è tutta sul vagone non chiamarmi busone no no ma vagone non è che spari c'è qualcuno che mi ha pizzicato abbiamo perso l'obiettivo bravo eh vabbè never ride mi saluto eh vabbè eh vabbè ecco dov'era ecco quello che mi ha pizzicato fuori mappa vabbè steso con un cazzo di zerbino ma adesso ti vengo a fottere vai 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 questa di merda no imbecille veramente una merda assurda ecco questo qua no questo qua va veramente fastidio no dai che siamo amici dai va bene va bene ma ce n'è un altro qua no aia se tu buttassi anche una cura magari dottore provo a fare il giro da qui una partita col pompa mamma mia una roba incredibile che schifo faccio cagare da solo mi faccio però vabbè almeno giocare così diventarsi un po' tattico perché se ti lo trovi dalla distanza è ovvio che non puoi approcciare l'uno contro uno come in questo caso cioè se sei un coglione è giusto che muori ecco perché sono stato scemo se mi avvicinavo altri due metri non ci mettevo tantasai colpi per ucciderlo vabbè dai rimaniamo col... eh vabbè eh vabbè questa è stata in casa così devo starmi in casa a cecchinare dai da un'altra parte del mondo come cazzo si esce da questa casa? non ci sono mai stato un nuovo grado classe oh yes uh oh oh dai 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 oh nessuno mi vede sono invisibile hai radar sono la persona più nascosta dell'Europa dai cazzo pervi di più con la pistola è morto ma perchè che l'ho inseguito vent'anni? ci prendiamo il caccia eh dopo allora? non ci credo non ci credo non ci credo non ci voglio non ci voglio credo dove cazzo mi ha fatto? ma no abbiamo conquistato l'obiettivo bravo è morto no grazie per avermi fatto tornare ma abbiamo conquistato l'obiettivo alfa ma avrei preferito fargli del male personalmente oh nemici 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 guarda lì uno è sceso ma oh ma muori cazzo e che merda stiamo perdendo l'obiettivo alfa stiamo perdendo l'obiettivo alfa buttale tutte aia porca città abbiamo perso l'obiettivo alfa ah speriamo che non mi abbia spottato ecco guarda guarda uno che non c'entra niente stavo facendo la mia guerra personale con quello stronzo lì no niente deve arrivare il cecchino Dio sa che palle figa adesso me lo sblocco boh fammelo provare se è veramente così pauroso nata abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie fammelo provare questo in casa è ovvio che è il capo dei capi ma è uguale però solo più più danno un kit sentinella è disponibile vicino alla tua posizione mio 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 oddio c'è il passera pelosa non so forse john connor no vai vieni vieni che abbiamo il villa pelosa lì la fregna pelosa questo di merda no ancora la stai non c'è qualche nemico abbiamo perso l'obiettivo Charlie tanto mi be qua che cazzo sono adesso che ho sto robo porca puttana ma quello non è normale questo questo mitragliotto oh vaffa culo spacco la testa ti spacco devo ricaricare calma no? mi curate per piacere non mi cura figa che guarda ah l'ho maturato carichiamo il fregna pelosa andiamo alla ricerca di qualche ignara vittima ma dove sono i nemici? qua vabbè vabbè io non ho capito con il mio alleato che lo stessi aspettando mi becco io la kille e va con lui stiamo perdendo l'obiettivo Charlie dobbiamo vedere se c'è qualche stronzo qua in casetta amo tutto merito del fregna pelosa che abbiamo qua su oggi non ci sia nessuno dai che teste di cazzo che due ritardati la famiglia dei ritardati qua otto sotto un tetto retarded però e no no mi faccio male che cazzo faccio abbiamo conquistato l'obiettivo intanto mi viene da fare delle cose strane buttarmi giù da delle altezze siderate ci l'hanno preso quindi mi respawnano qui eh volevi volevi fottere con John Connor ma non mi sembra il caso nemico colpito dai vieni fuori di qua che lo so no cazzo stai eccolo dove sta sta lì tranquillamente bello gaucho e devono durare vent'anni le partite comunque ah beh è più lunga qua guarda ecco sarebbe già dovuta finire ma si va oltre i 100 ecco perché non l'avevo mai fatta io questa cioè l'avevo fatta in conquista ma in dominio no ancora ah adesso ho capito abbiamo perso l'obiettivo bravo mamma mia mamma mia mamma mia il fregna pelosa via cazzo medico abbiamo perso l'obiettivo charlie abbiamo perso l'obiettivo charlie abbiamo perso l'obiettivo charlie eh colpi no ma vita no se non venisse cioè se non se non viene un bel medico a curarmi ma io aspetto qua sono 9 di vita eh volevi? eh volevo madonna si è troppo forte sta roba ma curami no pain invece di venirmi a picchiare ma stiamo qui in casetta? non c'è problema è la terza volta che ci provi mamma mia che testa di merda allora guarda stiamo qua fino a stasera se vuoi un dottore no eh magari venga a curare dio santo Garfield venga a curare faccio uno ho visto io vorrei un dottore ah ma sono a posto ma l'ho curato strade niente aia ciao mamma mia che che sciottata in fronte col fregna pelosa capo dei capi complimenti perché ti vedo bello mobile bello attivo aia vado via me ne frega c'è qualcuno che viene qua a fare l'eroe cazzo andiamo via che non c'è più energia c'è una bella doppia di pelo qualcuno che mi curi? no? c'è Garfield là Garfield pure lì c'è una merda stiamo arrivando da qui è entrato in casa è entrato in casa addio ciao ahah non te l'ho ancora ucciso oggi abbiamo conquistato l'obiettivo alto papapapipipipapa che schifo madonna eh porca puttana ma pensa te non so se l'ho preso o no non credo vabbè dai abbiamo vinto abbiamo fatto anche abbastanza schifo in generale quindi va bene così io adesso vi saluto perché è tardissimo guarda che troppo è durata troppo questo vediamo solo il risultato grazie al fregna pelosa di John Connor malattissimo dai non mi rompere i coglioni eh 866 263 vabbè signori io vi saluto vi ringrazio ci vediamo la prossima cerchiamo di riprenderci un po' perché sono veramente giù di tono ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti